200 metri allo stacco della macchina quanto il mezzo meccanico esce dalla curva e si mette sul rettilineo di fronte. Inizia a prendere gradatamente velocità l'autostart. Alla chiusura delle ali c'è lotta per il comando con My Lady Fee che chiaramente coglie ottima partenza come era nelle previsioni. Al suo esterno si presenta Martina OM che vuole correre davanti anch'essa, va ad attaccare la leader My Lady. Il lancio in 13 e 8 con My Lady, con Martina OM che chiede strada, la ottiene da My Lady, disco verde con cavalli che ora vanno al completamento del primo quarto di corsa. Martina OM che comanda, i 29,7 e i 400, all'esterno intanto Mari Bordachi ha colto ottima partenza dalla seconda fila, trascinandosi Legend B. Si vanno a formare varie pariglie, insiste Mari Bordachi che va ad attaccare Martina OM. I 600 vanno via in 45,2, 15,5 di frazione, la terza ruota all'esterno per Iberico, avanza anche il 16 di Medea Griff con i cavalli che vanno sulla penultima piegata, tabellone finito nel frattempo Nikla. Metà corsa in questo istante per Martina in 1,1 e 8, 16,6 di frazione, si viaggia da 1,17 e mezzo scarsi con sempre Mari Bordachi che se la sta facendo tutta di fuori, vento in faccia, lungo i birilli è sempre il numero 3 di My Lady. Il chilometro rifinì in 1,16 e 5, c'è lo scatto deciso ora di Matisse Pons che scavalca il resto della compagnia, va ad attaccare la piegata finale, i tre quarti in 1,16 e 5, in 1,31 e 9 con 15,4 di frazione con Matisse Pons che se ne è andato per proprio conto, al suo inseguimento si lancia Melissa Font SM con Matisse che affonda da saldo leader la dirittura di arrivo, se ne va Matisse, vantaggio bisale per Matisse, Melissa Font che se la va a giocare per la seconda moneta, Matisse Pons, Romolo Sani, se ne vanno per proprio conto e vanno a siglare questa seconda corsa del convegno con nel finale c'è la lotta per il secondo posto tra il 17 di Melissa Font e il 3 di My Lady Fee, andiamo da rivedere chiaramente la dirittura di arrivo, 1,59,6 il tempo totale, 1,14,8 da guaglio al chilometro con l'ultimo quarto in un deciso e molto veloce, 34, 15,2 per la dirittura di arrivo, la vittoria per Matisse Pons, Romolo Sani, 6,11 la quota al tot nazionale, al secondo posto probabilmente il numero 17